La scorsa volta abbiamo visto i numeri, numbers, le parole legate al viaggio, travel, e le parole legate alla scuola. Oggi vediamo le parole legate alla casa, home. E abbiamo la libreria, hondana, bookshelf. L'orologio o la sveglia, clock, tokei, il vaso, con i fiori, cabin, vase, il tatami, tatami mat, il cuscino, makura, pillow. La stanza da letto, con il letto, le coperte, il lenzuolo, i cuscini, il tappettino, il vaso dei fiori. E poi abbiamo la chiave, kagi, ki, la porta, door, la madia, todana, cupboard. Con dentro i piatti. E poi la finestra, mado, window. La cucina, con il forno, i fuochi, il lavandino, il rubinetto. Dai doccoro, kitchen. Kitchen. E poi c'è la sedia, chair. E qui altre parole, legate al giardino, garden. Abbiamo una pianta, con il suolo, la terra. Tsuchi, soil. Abbiamo le radici della pianta. Ne, root. Abbiamo la foglia, leaf, leaf, ha. La pianta. Shokubutsu, plant. E poi abbiamo il ramoscello, cookie, stem. Poi c'è, ci sono i semi. Tane. Seeds. Un insetto. Forse un'ape. Moshi. Insect. Un fiore. Hana. Flower. Un germoglio. Mè. Sprout. E poi l'erba. Erba. Kusa. Grass. Vediamo poi che cosa c'è. Qui abbiamo parole legate ai vestiti e agli accessori. Clothes and accessories. Abbiamo i guanti, due guanti. Tebukuro, tebukuro. Gloves. Abbiamo un maglione. Seta. Sweater. Abbiamo calzini, con le righe rosse e con i talloni verdi. Kutsushita. Socks. Poi abbiamo un kimono, che si chiama in inglese kimono. E poi abbiamo un uwagi. Coat. E poi abbiamo una scarpa. Kutsu. Shoe. Due scarpe sono shoes. E poi abbiamo un cappello. Boshi. Hat. Degli occhiali. Forse da vista, o forse da sole. Megane. Eyeglasses. E poi abbiamo un costume da bagno. Mitsugi. Bathing suit. Un ombrello. Cassa. Umbrella. E poi abbiamo le mutande e un reggiseno. Shitagi. Underwear. E poi c'è una borsa. Caban. Bag. E per oggi è tutto. Ciao! Ciao! Ciao!